Invitiamo il referee del prossimo incontro dalla Danimarca, Klaus Bedeman. A questo punto della scaletta è previsto un incontro di Light TV Weight, pesi massimi leggeri. Dico è previsto perché purtroppo per dei problemi burocratici legati al visto di ingresso in Italia il pugile che proveniva da Kyrgyzstan non ha potuto essere tra noi, non aveva i visti in ordine e quindi non ce l'ha fatta. Zavlon Beck, Usmanov, ma noi per regolamento dobbiamo introdurre il pugile della Dolce Gabbana Milano Thunder e quindi salutiamo Bosco Draskovic! Allora, allora! Taglia! 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 24 anni da Montenegro ha firmato l'ago della bilancia 84 e 200. Si era molto preparato per questo match, troppo i problemi hanno voluto diversamente, noi comunque applaudiamo al Lago Rosso per il Dolce Gabbana, la North Thunder, Kasko Traskovic! Il Dolce Gabbana, la Nostra è stata un'esplosione, la Nostra è stata un'esplosione, e allora attenzione, come abbiamo detto, da regolamento per wall cover, mancanza dell'avversario, vince Bosco Traskovic! Ci dispiace per Carlo Betta Usmanov, anche Bosco Traskovic ci teneva molto, infatti diciamo si è molto preparato per questo match, purtroppo il destino ha voluto così, e il destino ha voluto che i Dolce Gabbana, Milano Thunder, si portino sul 4 a 0! ingresso sul ring della referee, Mr. Michael William Gallagher from Ireland, dall'Irlanda, l'arbitro di questo ultimo incontro, categoria, pesi massimi, heavyweight category!